qui vi lascio un pochettino i miei recapiti il paypal per le donazioni al canale al sottoscritto per portare avanti il suo operato i miei numeri telefonici per whatsapp e telegram e le mie mail qui ci sono anche riferimenti per due libri che ho fatto interessanti un regalo da farsi e da farsi e soprattutto le consulenze le faccio per il gruppo riservato o anche cose specifiche a livello tra virgolette giuridico mandatemi sempre prima un messaggio telegram whatsapp perché non rispondo ai numeri che non conosco eccole insieme alla pittura rupestri a fischi strumenti per cacciare per tagliare le puttanate della paleoantropologia l'uomo si cibbava di carne perché hanno trovato vicino all'uomo insieme all'uomo alcuni resti di ossa allora non trovando resti vegetali cosa hanno dedotto l'uomo mangiava carne l'uomo è diventato intelligente per la carne l'uomo è diventato stupido per la carne infatti la scatola cranica sta diminuendo perché lo sanno tutti che il cervello va a zuccheri glucose e fruttose zuccheri semplici ovviamente quelli di madre natura e fatevi questa domanda sempre spunto di riflessione se la carne avesse sviluppato il cervello come mai i carnivori non sono molto più sviluppati noi essendo la loro natura domanda per un'entità superiore grazie a tutti grazie a tutti